In Giappone è già un'abitudine consolidata riservare il giusto spazio quando si esce fuori a cena per i propri animali a quattro zampe, tanto che sono molto diffusi i locali dedicati a fido e fuffi, ma negli ultimi anni questa consuetudine si sta diffondendo anche in Europa. A Londra esistono per esempio svariati dog's dinner pronti ad esaudire i raffinati parati dei cagnolini più esigenti, a Berlino ha aperto il Pest Deli, un ristorante gourmet dove c'è la più grande area cani di tutta la città, mentre a Bruxelles, molto famoso, è il Tutu Bar. A febbraio, come anticipato dal Gambero Rosso, aprirà a Roma il primo ristorante per cani e gatti, sorgerà in zona Parioli e si chiamerà non a caso Pet. Sarà una sorta di laboratorio cucina o un takeaway dove ordinare pietanze specifiche per cani e gatti e poi passare a prenderle o addirittura a farsele consegnare a domicilio. Una nutrizionista per animali da compagnia realizzerà menu completi ad hoc e ricette adeguate alle necessità alimentari dei nostri adorabili animali, che si spera per una volta non faranno la lotta tra loro, ma in nome del buon cibo diventeranno ottimi alleati.